Ecco, sono qui al 183 di Brollo e mi è appena caduto le Twin Tower sulla testa. Stavo correndo per la mia vita. Penso che non sono mai stato così, spaventati. Vita mia, siamo a un blocco dalle Twin Tower che sono cadute mezz'ora fa. Esco di casa, questo è quello che vedo. Apocalisse. Wow, il fumo è appena andato via. Mi sono cadute le Twin Tower in testa. Incredibile. L'apocalisse. E ora giriamo a sinistra e qua a sinistra ci sono le Twin Tower. C'erano le Twin Tower. Che ora non ne ci sono più. I pompieri che stanno andando a vedere cosa succede. Le Twin Tower erano esattamente qua. Qua davanti a noi c'erano le due torre. Che ora a 100 metri di distanza. Che non ci sono più. Questi sono i primi circonduttori. Il fumo, vedete? Questo è il mio primo circonduttore sul luogo dove esplose il corollato. Quindi c'erano l'arco qui è qui e questo? Si, erano qui prima. E' stato molto più grande prima. Io vivi qui. Ho visto che tutto ci sono trombosi. Qu'è l'arco? Qua l'arco è l'arco? L'arco. L'arco qui? Qui? Quanto è l'arco? C'è l'arco? Niente. Niente. Il c'è tutto? Il c'è tutto. Quando è fuori l'arco io ero. Guardate la scena allucinante di Starbucks. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non è incredibile. Guardate questa scena. Guardate questa scena. Questo è l'inizio di Fireman. Probabilmente l'unica persona. Questo... il trac... Incredibile, ragazzi. Guardate questa scena. Wow! Questo è quello che rimane del World Trade Center, ragazzi. Guardate questa scena. Wow! Non ho parole. Scena di guerra. Scena di guerra. Sono l'unico civile in questo momento sulla scena qua. Questo era il World Trade Center, il Palazzo di Piano. Questo è il Millennium Builder. Questo è il Millennium Builder. Questo è il Millennium Builder. Non c'è! Si! Si! Thing.. Perciès! L'attacco terroristico più I just had fallen into my head And this is where I live, right there, that window right there Immaginatevi voi cosa mi è caduto sulla testa Incredibile questa cosa Guardate il cielo Non c'è molto il diazio Grazie 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 Anderemo a vedere Grazie 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 Queste erano le torri gemelle, è successo mezz'ora fa, siamo dei primi testimoni dell'accaduto. the extent. Can you tape me for a second? Don't press anything, eh? Just film me. Grazie. Non so cosa dire. Va cambiare la mia vita, per sicuramente. Proveremo ad andare più vicino. Guardate ragazzi, è appena crollato, 20 minuti fa. Questa era la base delle torri gemelle. I primi soccorsi stanno arrivando in questo momento. Questa è la prima parte. 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 Gesù Christ. Can you believe... Believe above. Sì. Ti conosco io te Dove ci conosciamo? Dove ci conosciamo? Sei un fotografo no? Sì Ciao Maurizio Io abito lì Ma le sono cadute in testa Ma le sono miste tutte e due Ho filmato tutto Ma tu c'hai il pasto? No Anche tu? Qua non c'è il cazzo nessuno No E' la cosa con qui Guarda che bella la foto con eh si, infatti ho fatto così la coca cola che pazzesco eh si tratta la macchina? eh? si tratta la macchina? si, questo non è mio, è il mio vicino di casa lui si è scappato dalla nostra vita, io ero in mezzo alla strada non è vero, io vi asciutto ma anche a tutti gli occhi se tratta la macchina e non è? non è? non è? non è? non è qui? non è qui? se si tratta la macchina è qui? non è qui? non è qui Grazie. 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 Sta estornando il fumo. Ci conviene andarcela da qua. You can't have a chance I'm going to get a copy of your video tape. Sure. That's a long one's in a lifetime. Yeah, it took four world films as well. Oh yeah? I was on the other side of the street when it collapsed Oh really? I had to run Wow My email address? I'll give you mine Roberto What is it? Roberto? Andre How do you spell it? I mean Roberto Roberto, it's like Robert and then it's A-N-D-R-E at hotmail.com It might be a while before maybe like a month or so because I'll try to sell it first Okay, cool No problem You can't even cover your mouth There's a lot of asbestos here A lot of what? A lot of asbestos here Look at that A lot of asbestos Oh good This is all asbestos It's bad stuff Oh, asbestos You've got to cover your mouth Thanks, man They've got one and two the two main buildings and they've got three, four, and five They've got a lot of asbestos Yeah and they've got distracted cheeval They've got around they've got to the 21st That's just is it? You've got to be on I've got to be� that Grazie a tutti. Bella casa mia, bella casa là e questo quando venuto potete solo immaginare. Grazie a tutti. 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 Questo. Cuscini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.